Mio padre diceva non è tanto importante fare quello che ti piace ma amare quello che la vita ti porta a fare. Io dovessi scegliere le mie passioni sono altre io non sono appassionato della finanza però adoro il lavoro che faccio non lo cambierei mai. Mio padre non avesse fondato Banca Medio Ano molto probabilmente non avrei mai lavorato nel settore finanziario. Però quello che faccio mi piace. La vita mi ho portato qui pur se le mie passioni sono altre mi piace, adoro quello che faccio non mi pesa.